Benvenuto a questa nuova edizione di Ability News, il nostro sommario. Stephen Hawking, il genio disabile, compie gli anni. Congedo straordinario, le nuove procedure di domanda. Naufragio costa concordia, studente, salva quattro disabili. Oscar, cana tre zampe. Un premio a Fabrizio Macchi. L'astrofisico ha delle teorie più conosciute e affascinanti, in alcuni casi più provocatorie. Stiamo parlando di Stephen Hawking, fisico, matematico e cosmologo britannico che è riuscito a spiegare l'esistenza dei famosi buchi neri. Lo ricordiamo oggi non tanto per le sue scoperte e le sue teorie sulla nascita dell'universo, né per l'atrofia muscolare che da 21 anni lo tiene su una sedia a rotelle, ma per festeggiare insieme i suoi 70 anni. Sono infatti 70 le primavere di quest'uomo geniale che non ha permesso che la sua disabilità diventasse un limite. Il suo desiderio per questo compleanno è stato quello di trovare, tramite inserzione, un tecnico che si occupi della costante manutenzione della sua sedia a rotelle e dell'ausilio che gli permette di comunicare. Buon compleanno, professor Hawking! Dal 1 gennaio 2012 sono cambiate le modalità attraverso le quali presentare la domanda del congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità, come d'ex articolo 42 del Decreto Legislativo numero 151 del 2001. Il Direttore Generale dell'Inps, attraverso la circolare 171 del 30 dicembre del 2011, comunica che le domande dovranno pervenire attraverso il web accedendo alla sezione Servizi Online del sito www.inps.it oppure recandosi ai patronati o chiamando il Contact Center integrato al numero verde 80 3164. Ricordiamo che il permesso della durata di due anni può essere richiesto se presenti i seguenti requisiti situazione di handicap grave, rapporto di lavoro in essere e mancanza di ricovero a tempo pieno. Fino al 29 febbraio, comunque, chi presenta a regolare domanda seguendo i canali tradizionali può essere certo di averlo fatto in modo corretto, ma attenzione, a partire dal 1 marzo verranno accettate solo le domande effettuate con le nuove procedure. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandononave, adesso comando io, lei vada a bordo, è chiaro? Comandate, non mi sente? Sto andando a bordo, vada, mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua, avanti, ci sono già dei cadaveri schettino, avanti. Quanti cadaveri schettino? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito, ve lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo! Omar Brolli, studente di Misano Adriatico, ha salvato quattro disabili che stavano viaggiando a bordo della costa Concordia, nave da crociera affondata il 13 gennaio, qualche miglia a largo dell'isola del Giglio, in Toscana. Lo studente, nelle prime fasi del soccorso, quando la nave si stava accasciando su un lato, ha cercato di tranquillizzare i passeggeri ed è riuscito a far salire sulla scialuppa di salvataggio quattro persone diversamente abili, tra cui la nonna, salvando loro la vita. Sono stati momenti drammatici, ha raccontato il coraggioso studente, ci dicevano di stare fermi e invece i dipendenti già indossavano i giubbotti di salvataggio. Informazioni lacunose e poca assistenza, alla fine ognuno ha agito come ha potuto. Insieme ad altri ho aiutato a prendere posto sulla scialuppa di salvataggio quattro persone che non erano in grado di muoversi. Una era mia nonna. Non è stato facile, era terrorizzata, così come gli altri. Sotto accusa, la pratica di far avvicinare il più possibile la nave alle coste della località più suggestive che si incontrano lungo il percorso della crociera. Il comandante, infatti, avrebbe condotto la costa Concordia a meno di tre miglia dall'isola del Giglio, anziché le cinque consentite, urtando così uno scoglio e provocando un enorme squarcio sul fianco della nave, causa poi dell'affondamento. Solo chi è un animale in casa potrà apprezzare la notizia di un sito dedicato agli animali con disabilità. Vi leggo la presentazione. Questo sito è dedicato ad Oscar, un meraviglioso cane che a causa di un incidente ha vissuto con solo tre zampe sin da quando era un cucciolo. Niente paura, è stato un cane felicissimo ed ha sempre condotto una vita normale. Grandi corse con la palla, nuotate di ore e tutte quelle attività svolte da cani vivaci e pieni di amore per la vita, così come Oscar è sempre stato. All'età di 18 anni ci ha lasciati, ma la sua esuberante lunga vita vuole essere ad esempio a tanti altri animali e dai loro amici umani. Avere un handicap non significa essere infelici e si può godere della vita per tanti anni, così come ha fatto il nostro dolcissimo Oscar. Una tenera affettuosa testimonianza alla quale aggiungiamo questa notizia. Ci sono editori specializzati che sotto la collana Amicizie speciali stampano libri che raccontano storie di tante persone che attraverso questa esperienza hanno scoperto come, con piccoli accorgimenti, si possa vivere felici aprendo il cuore agli altri, animali o umani che siano. Chi è interessato può cliccare il sito www.oscardog.it per trovare tutte le informazioni e gli ausili adatti ai loro piccoli compagni sfortunati. Il nuovo anno porta a Fabrizio Macchi, il nostro campione di ciclismo paralimpico, un prestigioso riconoscimento internazionale. A Dinsbruck, il due volte campione del mondo e bronzo olimpico, ha ricevuto dall'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva il famoso IPS Power of Sport, un premio che i giornalisti sportivi di tutto il mondo hanno voluto segnare al nostro atleta varesino per il positivo impatto delle sue vittorie sulla società e per tutte le iniziative di cui è stato testimonial a favore della lotta contro il cancro. Oltre a Macchi, sono stati assegnati riconoscimenti al principe Alberto di Monaco per la manifestazione da lui patrocinata Peace and Sport e al principe Faisal di Giordania, presidente fondatore dell'organizzazione internazionale Generation for Peace. Questo evento è stato anche l'occasione per consegnare gli IPS Fair Play Awards a tutti quegli atleti che nei vari campi si sono distinti per atti di nobilità sportiva nei vari settori di attività e nelle varie discipline sportive, dal calcio all'atletica, dal cricket al mondo arbitrale. Con questa notizia termina l'edizione di Ability News, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.